negli ultimi giorni vi sarete sicuramente imbattuti in alcune immagini alcune foto provenienti da parigi precisamente provenienti dell'arco di trionfo questo monumento celeberrimo noto a tutti simbolo di parigi forse della francia stessa che viene impacchettato ecco abbiamo visto tutte le foto con il telo questo telo grigio argentato che viene calato dall'alto sul monumento con questi operai che si calano a loro volta con delle corde cercando di assicurarlo di accertarsi che il telo si dispiega si dispieghi nella maniera giusta che lo assicurano poi con delle corde lo stringono tanto che alla fine il monumento sembra letteralmente impacchettato ecco hanno impacchettato l'arco di trionfo e avrete sicuramente sentito che si tratta di un'installazione artistica che l'artista si chiama cristo o cristo che ci ha lasciati in verità un anno fa e questa è un'opera postuma ecco immagino che molti di voi non avendo mai visto nulla del genere magari si saranno sentiti come dire un po' divertiti da questa immagine ogni caso stupiti perché è effettivamente qualcosa un'operazione diciamo così abbastanza inusuale e volevo dirvi che anch'io una volta mi sono sentito così proprio come voi perché anche a me che sto ovviamente per spiegarvi questa operazione sto ovviamente per darvi una possibile chiave interpretativa di questa installazione artistica ebbene anche a me è capitato una volta molti anni fa di vedere inaspettatamente per la prima volta su uno schermo un grande edificio che veniva impacchettato e di restarne ovviamente stupito e anche un po' perplesso questo è accaduto nell'anno 1995 a giugno in particolare io stavo finendo la terza media avevo 13 anni andavo per i 14 al pomeriggio guardavo su re uno dei programmi per ragazzi a un certo punto andò in onda un tg dei ragazzi perché i tg dei ragazzi erano quei telegiornali non come quelli degli adulti con le tragedie i grandi fatti gravi violenti nel mondo ma invece delle buone notizie ecco e vidi un edificio di berlino il reichstag quello che era una volta il parlamento della germania lo vidi impacchettato impacchettato con un telo che aveva esattamente lo stesso colore del telo che adesso sta impacchettando l'arco di trionfo ecco ricordo che rimasi stupefatto di questa cosa era un ragazzo molto molto curioso nei confronti delle cose artistiche quindi il giorno dopo a scuola chiesi alla mia prof di educazione artistica se ne sapeva qualcosa e ricordo che lei si mise a ridere e poi disse qualcosa tipo ah sì è quell'artista bizzarro pazzo che impacchetta tutto che impacchetta gli edifici si chiama cristo ecco e lì quando sentimmo che si chiamava cristo io e i miei compagni ovviamente scoppiamo a ridere perché è chiaro che uno che si sceglie un nome d'arte come cristo già che cristo non può essere il nome proprio della persona deve essere per forza un nome d'arte uno che sceglie questo nome deve avere come minimo qualche problemino con il proprio ego diciamo e così tutto venne un po liquidato così nel campo delle bizzerie artistiche diciamo così però a me rimaneva ancora la curiosità e soprattutto rimanevano delle domande aperte perché io mi chiesi alla fine questo cristo sarà anche pazzo sarà anche bizzarro però alla fine lui ha impacchettato un edificio anzi un edificio enorme con grande spesa economica sicuramente col grande dispendio di mezzi avrà avuto sicuramente avrà dovuto avere permesso delle autorità avrà dovuto avere permesso della politica ha dovuto avere il consenso di una comunità per fare quella operazione lì e quindi deve esserci qualcosa che io posso capire se i berlinesi hanno deciso di permettere questa operazione mi misi quindi ad approfondire scoprendo innanzitutto che cristo non è un artista ma in verità sono due artisti cristo e jean claude strato infatti di una coppia di artisti che si è formata a parigi alla fine degli anni 50 per quanto riguarda invece il nome cristo è in verità il diminuitivo di cristo pronunciato alla francese diventa cristo quindi un nome con un suono molto simile rispetto a quello originale perché cristo è di origine bulgare è nato in bulgaria a gabbrovo nel 1935 e solo successivamente dopo i vent'anni si è stabilito in francia in seguito negli stati uniti ed è proprio a parigi che cristo e jean claude iniziano a lavorare insieme sul tema della separazione ecco secondo me separazione forse potrebbe essere la parola chiave per capire gran parte della loro opera di artisti compreso anche l'opera che stiamo vedendo in questi giorni ricordiamoci però un attimo com'era il mondo ai tempi di cristo e jean claude il mondo si stava separando in due blocchi distinti e contrapposti il blocco delle democrazie liberali da un lato a occidente e il blocco comunista dominato dall'unione sovietica a oriente è in particolare l'europa che ne risulta divisa dalla cosiddetta cortina di ferro una specie di confine immaginario più mentale che reale che separa i paesi dell'est dai paesi dell'ovest e che divide ad esempio un paese come la germania o addirittura una città come berlino che proprio in quegli anni all'inizio degli anni sessanta vede la costruzione del famoso muro ecco cristo e jean claude secondo me in quegli anni stavano ragionando esattamente su questo ricordiamoci alla fine che la coppia di artisti è composta da una donna francese quindi occidentale e da un uomo bulgaro scappato dal blocco comunista forse per questo tra le prime opere troviamo questo muro di barili di petrolio che occupa una strada centrale di parigi ruvis conti qual è il senso di quest'opera il senso di quest'opera è semplicemente raffigurare mettere in scena questa separazione questa divisione e lo fa nel tessuto della città in particolare ci troviamo lungo una strada quindi lungo quello spazio della città nel quale siamo abituati a pensare che scorrono scorre un flusso di persone di automobili di merci è un un luogo di collegamento un luogo anche di incontro di scambio un luogo di continuità del tessuto della città ecco in quel momento lì interviene questo muro questa cortina di ferro che cambia tutto non ci troviamo più di fronte a una strada ma ci troviamo di fronte a due vicoli ciechi manca completamente l'elemento della connessione manca inevitabilmente la comunicazione la conoscenza di quello che c'è dall'altra parte quindi si tratta di una specie di appunto di una messa in scena quasi quasi psicanalitica una psicanalisi della della cortina di ferro che serve quasi a conoscere questo nuovo stato mentale ma probabilmente serve anche ad esorcizzarlo e a questa epoca risalgono anche le prime esperienze di cristo e jean claude nell'ambito degli impacchettamenti all'inizio si trattò di impacchettare degli oggetti comuni e l'operazione sembra essere finalizzata a una specie di ragionamento proprio sulle forme sulla nostra memoria delle forme degli oggetti per cui la forma reale dell'oggetto ci viene letteralmente sottratta ma ci viene restituita nella forma impacchettata che non corrisponde giocoforza alla forma originaria ma che ce la suggerisce ce la fa tornare in mente e quindi ci spinge a compiere una operazione di ricostruzione formale a livello mentale dell'oggetto solo che in seguito questa operazione si applica anche agli edifici e al paesaggio cristo e jean claude arriveranno a impacchettare un po di tutto impacchetteranno degli edifici impacchetteranno dei ponti impacchetteranno degli alberi impacchetteranno addirittura delle isole o addirittura impacchetteranno delle una scogliera come si vede ad esempio qui in questo libro questa qui è la scogliera impacchettata questo e jean claude ora che senso ha mettersi a impacchettare non più la bottiglia non più gli oggetti ma mettersi a impacchettare un edificio ecco cerchiamo di capire questo allora che cos'è un edificio che cos'è un pezzo del paesaggio un ponte una scogliera sono qualcosa che noi conosciamo molto bene sono qualcosa che fanno parte della nostra realtà sono dei punti fissi dei landmark come si dice anche in gergo del nostro paesaggio del paesaggio urbano sono cose a cui noi siamo molto molto abituati siamo in alcuni casi anche molto legati certi monumenti sono dei veri e propri elementi identitari nel tessuto della città sono dei luoghi che catalizzano anche funzioni della città e tutto possiamo pensare tranne che quei monumenti quei pezzi quegli elementi del paesaggio ci possono venire sottratti da un momento all'altro da un evento che non sia un evento distruttivo quindi questo vuole un po come faceva con la bottiglia farci ragionare sulla presenza di questi elementi del paesaggio di questi landmark e lo fa con questa operazione dell'impacchettamento ovvero l'artista nasconde ci ci toglie la visione dell'oggetto architettonico lo trattiene lo tiene diciamo sotto sequestro per un certo periodo di tempo in genere si tratta di due settimane dopodiché l'oggetto viene restituito viene svelato e ritorna alla città ritorna ai cittadini ritorna agli osservatori ed è un po come rivederlo per la prima volta è come se cominciasse una nuova vita per questo oggetto c'è poi un caso in cui cristo tiene insieme riesce a tenere insieme sia il tema dell'impacchettamento sia il tema della separazione quello che abbiamo visto affrontato nell'opera con i barili di petrolio ciò di cui sto parlando è esattamente l'impacchettamento del Reichstag dell'anno 1995 qui l'impacchettamento assume un significato simbolico ancora diverso rispetto a quelli precedenti infatti forse saprete che il Reichstag è stato a lungo il parlamento dei tedeschi un edificio che risale alla Germania unita unificata prima delle guerre mondiali è l'edificio che ospitava il parlamento l'edificio che hitler fece bruciare nel 1933 quando si instaurò la dittatura nazista un edificio che in seguito non aveva più avuto quella funzione un edificio che era stato bombardato danneggiato durante la guerra e che dopo la guerra si era trovato ad essere abbandonato proprio vicino al muro di berlino perché il muro di berlino passava proprio lì dietro quindi questo edificio era quasi una specie di di fantasma il fantasma di quella germania di un tempo quella germania che sembrava non potesse tornare mai più ecco che quindi quando il muro di berlino cade nel 1989 si riaffaccia la possibilità che berlino torni ad essere la capitale tedesca e se berlino torna ad essere la capitale tedesca il reichstag potrebbe tornare ad essere la sede del parlamento ecco che a quel punto quell'edificio che si era tanto caricato di dispiaceri di mali di violenza di distruzione aveva bisogno come dire di un momento di di purificazione quasi di un esorcismo per tornare ad essere di nuovo la casa democratica dei tedeschi ecco quindi che nel 1995 cristo riesce finalmente a convincere le autorità tedesche a impacchettare il reichstag viene trattenuto sotto questo telo argentato per due settimane ripeto siamo nel giugno del 95 e alla fine l'edificio viene liberato e viene riconsegnato in mano ai tedeschi che adesso possono finalmente riappropriarsene e lì infatti inizia la nuova vita del reichstag il reichstag viene ristrutturato con un restauro high tech che gli procura una grande cupola vetrata in cui oggi voi potete salire e da lì si può vedere sotto i propri piedi letteralmente il parlamento tedesco al lavoro e in una specie di esaltazione ipertecnologica del valore democratico della trasparenza con nascondere per poi far notare sequestrare per poi restituire abbandonare per poi riappropriarsi di qualcosa di importante questo è esattamente il la logica che sta dietro a queste incredibili installazioni di cristo il valore simbolico dell'impacchettamento dell'arco di trionfo può essere spiegato in vari modi innanzitutto l'importanza simbolica stessa dell'arco di trionfo per i francesi credo sia in assoluto l'edificio più celebre al mondo che cristo abbia mai impacchettato e d'altra parte è anche un rimando alle origini dell'impacchettamento infatti quell'idea come abbiamo visto è nata proprio a parigi all'inizio della collaborazione tra cristo e jean claude e proprio a quell'epoca cristo nel suo piccolo studio di artista con vista sul proprio sull'arco di trionfo aveva in alcuni schizzi anticipato quest'idea che poi è stata realizzata ormai 60 anni dopo ecco ovviamente questa è la mia chiave di lettura dell'intervento di cristo ce ne possono essere altre anche perché cristo si è sempre rifiutato di spiegare direttamente con parole sue le motivazioni che lo portano ad agire artisticamente in questo modo lui ha sempre detto io l'arte la faccio non la spiego comunque spero insomma di avervi se non altro incuriositi spero di avervi fatto cadere quel velo magari di scetticismo che magari avevate provato all'inizio questo riguardo a quest'opera e niente come al solito se vi è piaciuto il video vi prego di mettere il like e se vi interessa sentire ancora di questi discorsi iscrivetevi al canale a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video ciao